3 di luglio siamo di nuovo a Scanno in diretta per la 14esima edizione del trofeo nazionale Formula Wisp. In questo momento quest'atleta ha appena terminato la sua esibizione. Oggi vediamo l'aspetto agonistico, l'aspetto di amicizia di tutte quante le bimbe che sono qui, che in questo momento sono ancora bimbe, sono atlete del 2008, ma tra poco si trasformano in atlete a tutti gli effetti. Facciamo un giro prima dell'entrata in pista e vediamo la tensione sui volti delle bimbe, sui volti degli allenatori, la contentezza di chi ha appena terminato di fare la sua esibizione. Ciao ragazzi, siamo in diretta sulla pagina della Wisp, su Facebook. Eccole qua, guarda, ciao dici qualcosa, l'hai fatta la gara già? No. A che ora ce l'hai? Lo sai più o meno? A dieci minuti, sì. Sei emozionata? Sì. Va bene, un bocca al lupo. Siamo in diretta, sì signora, siamo in diretta su Facebook. Arrivano da tutta Italia i nostri atleti, eccoli qua, si stanno scaldando, piccoli campioni in erba. Io per oggi vi saluto e lascio a loro l'emozione della gara, degli atleti. Buona giornata a tutti.